Cinque minuti in compagnia di Comte. Comte nasce a Montpellier nel 1798 e muore a Parigi nel 1857. Auguste Comte è il massimo esponente del positivismo, quella filosofia, quella cultura, quella visione di mondo che eleva le scienze a massima potenza, a strumento e fine dell'umanità. Il positivismo sarà la corrente filosofica egemone in Europa tra la metà e la fine dell'Ottocento. Il punto di partenza appunto di Comte è il successo del metodo scientifico, metodo scientifico che va dunque esteso a tutti gli ambiti del sapere e la razionalità del positivismo è una vera e propria razionalità universale che fa del metodo empirico, del metodo sperimentale e laboratoriale, il metodo per indagare e comprendere la realtà. Dunque il metodo delle scienze sperimentali deve diventare il metodo filosofico per eccellenza e deve soppiantare tutte le altre metodologie filosofiche o parascientifiche che sono state invece egemoni nell'Europa dall'antica Grecia ancora sino all'idealismo tedesco nell'Ottocento. Il punto di partenza di Comte è usare le scienze per indagare la fattualità della natura, indagare i dati della natura, interpretare la natura e i fenomeni a partire dai fatti, alla religione metafisica di Platone, alla religione metafisica degli idealisti, cioè le filosofie metafisiche che sono dunque religioni, contrappone Comte la religione del fatto, dei fatti, ciò che conta sono i fatti. Conoscere i fatti significa conoscere i fenomeni, e se io conosco i fenomeni li posso pertanto comprendere, governare, dominare, è evidente qui la eco bacognana di questa prospettiva, cioè se l'uomo conosce la natura la può dominare. A che fine? Il fine del dominio della natura è il miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità e dunque un uomo che attraverso il metodo scientifico giunge a migliorare la comunità, la civiltà umana. Conosco per agire, conosco la natura per dominarla, conosco la natura per migliorare le condizioni di vita dell'uomo. Bassima fiducia dunque nei confronti delle scienze. A questo punto Comte nella sua massima opera che si intitola Corsi di filosofia positiva elaborerà quella che è la famosa legge dei tre stati, tre stati della storia umana, anche qui c'è un riferimento filosofico importante, in questo caso il riferimento è alle leggi della storia, ai tre stati della storia di Vico. Quali sono i tre stati dell'evoluzione psicologica, filosofica, culturale, storica, scientifica dell'umanità, delle civiltà umane? Sono tre, il primo stato è lo stato fittizio e lo stato che richiama chiaramente al passaggio dalla età primitiva, barbara, dall'età della bestialità all'età della civiltà e della comunità umana. Ma questa prima epoca, questo primo stato è uno stato ancora governato da magia, da superstizioni, infatti si chiama anche stato teologico, il divino domina l'interpretazione della natura, il divino domina l'interpretazione della realtà. Il secondo stato invece è lo stato della filosofia metafisica astratta, infatti si chiama appunto stato metafisico astratto. Le civiltà abbandonano la superstizione e la magia ed elaborano filosofie e sistemi filosofici di stampo metafisico razionale, una razionalità collegata alla metafisica. Parliamo delle grandi credenze filosofiche e religiose, il platonismo per capirci, ma in questo potrebbe anche rientrare ancora ovviamente l'idealismo e l'eghelismo. Sono concetti astratti che vengono utilizzati per interpretare la realtà. Il terzo stato dell'evoluzione, dunque umana, della storia dell'umanità, delle civiltà, è lo stato appunto scientifico, o anche stato positivo, è lo stato in cui trionfa ovviamente la scienza, dove le estrazioni razionali e metafisiche lasciano lo spazio al metodo scientifico sperimentale, al domande ingenua sul perché, sul senso del mondo e le cose della natura, seguo invece la domanda come funziona la natura, come funzionano i fenomeni, e dunque indagando la natura in base al proprio funzionamento la possiamo dunque governare e dominare, ai perché seguono i come. Questa è la fase appunto del trionfo della scienza, scienza sperimentale, scienza laboratoriale, e diventa lo stato positivo, dunque è la rivoluzione umana, scientifica, la sua massima potenza, e dunque c'è un atteggiamento positivo nei confronti della natura del mondo perché è un atteggiamento di progresso, di fiducia nelle scienze, di fiducia nella razionalità umana. In questo momento l'uomo è pronto a un passaggio evolutivo di benessere, di progresso. Questa filosofia, dunque la filosofia positiva, deve mettere ovviamente in soffitta, mandare in soffitta le filosofie di stampo metafisico. Vengono classificate da Comte le scienze, le scienze vengono classificate a partire appunto dalla matematica, per complessità dunque crescente, dalla matematica si passa all'astronomia, alla fisica, alla chimica, alla biologia, sino giungere alla sociologia, che si occupa della sostanza, della natura più complessa, cioè dell'organizzazione umana, delle civiltà umane, dell'organizzazione appunto sociale umane, che siano agricole, che siano urbane, che siano appunto appartenenti all'epoca teologico, che siano appartenenti all'epoca positiva. Questo deve fare la sociologia. Il fenomeno più complesso a studiare è quello della società umana e della sua evoluzione, per poter garantire all'uomo e alla sua evoluzione umana il massimo benessere. La sociologia si divide in statica e in dinamica. Quella statica cerca le leggi di equilibrio della società umana, quella dinamica cerca le leggi di trasformazione. E per Comte il trionfo del positivismo sarà l'industrialismo, sarà dunque il trionfo della società industriale, in cui la filosofia appunto verrà abbandonata, c'è chi sa il trionfo delle scienze, addirittura la politica sarà assoluta dall'economia. In questo caso Comte il Cantore è una società tecnico-industriale, efficiente, in cui tutto come un ingranaggio deve funzionare come appunto un orologio, come un corpo umano. E ha il vecchio concetto dunque di Dio, subentrata quello di grande essere, ma il grande essere è l'intera umanità presente, passata, futura, che in un'evoluzione porta sempre ad un miglioramento, ad un progresso. E lo stesso Comte si considererà il cantore, il profeta, di questo grande, grande, grande essere, di questo grande benessere, di questo progresso.